Vi racconto alcuni eneddoti che sono successi quando ha nevicato a Roma. Quando ha nevicato a Roma c'è stato un delirio perché comunque i mezzi non erano pronti a una nevicata, anche se comunque è stata data l'allerta alla neve che sarebbe stata lunedì, non erano pronti. Le scuole sono state chiuse, i mezzi sono stati a rilento perché si sono trovati in un caos totale, ragazzi. Quindi è stato un po' complicato. Vi racconto alcuni eneddoti che sono successi. Calcolate che io, da dove abito, ho preso la metro per andare al centro di Roma e calcolate che ed era piena. Perché comunque calcolate che Roma porta turisti, Roma con la neve ha portato molto caos. Quindi ti trovi in una situazione di delirio, ragazzi, veramente di delirio. Allora ho deciso di andare al centro. Siamo andati al centro, io e mia sorella, e siamo andati a scattarsi alcune foto. Vi faccio vedere due o tre scatti adesso. Roma comunque è bellissima, aveva un effetto wow, cioè ragazzi, veramente, veramente wow. Cioè, non so come... Per chi non l'ha vista dal vivo, cioè, è indescrivibile la situazione. Cioè, non si può spiegare, ragazzi, veramente, è difficile da spiegare. Però, tramite delle foto che vi faccio vedere, potete capire il bene, com'era. Calcolate che Roma è bello comunque, ragazzi. Però con la neve non so che effetto dava. Sembrava che eravamo a dicembre, ragazzi, perché faceva freddo, veramente faceva freddo. Io, infatti, mi ero morta nel freddo. Nonostante avessi guanti, mi ero coperta bene, perché comunque faceva veramente, veramente freddo. Mi sono morta dal freddo e sono dovuta andare comunque al bar, perché prendermi una cosa calda, perché proprio non riuscivo, ragazzi, per dire, non riuscivo dal freddo. Avevo i piedi congelati, nonostante, nonostante ho cercato di ripararmi, però mi sono morta veramente, veramente dal freddo, ragazzi. Roma è bellissima, stupenda e ha portato anche dei grandi disagi. Infatti, gli alberi sono cascati, molte cose sono successe, alcune metro che hanno, diciamo, quelle scoperte, diciamo, perché ci sono alcune metro che rimangono un pochettino scoperte. Lì c'è stato il caos, perché la neve entra da dentro. Quindi ci sono successe tante, tante cose. Se devo dire, in sintesi, cosa mi è piaciuto di più di questo evento, proprio la Roma è nevata. Vuoi dire, Sara, ma cosa stai dicendo? Ha portato danni, sì, hai ragione, però mi è piaciuto così tanto. Vi voglio condividere solo due ultimi video e poi ditemi sotto se vi è piaciuto o meno questo video della mia esperienza della neve a Roma. Un bacione. Un bacione. Grazie.